Questo è un pezzo di carta. Questi sono due pezzi di carta. Quello è un pezzo di carta. Questo è un pezzo di carta. Quello è un pezzo di carta. Questi sono due pezzi di carta. un pezzo di carta due pezzi di carta questi sono due pezzi di carta quelli sono due pezzi di carta quello è un pezzo di carta e quello è un pezzo di carta